Una moda sempre in voga e che si diffonde sempre di più tra i giovani e i nonni. E' quella dei tatuaggi che col passare del tempo coinvolge più persone che decidono di differenziare la propria pelle dagli altri con disegni personali, a volte davvero originali. Il tatuaggio è un'arte che si rivolge un po' a tutte le fasce d'età. Sicuramente il ragazzino è più attratto perché vede gli amici e comunque è affascinato dalla gente dello spettacolo, del mondo della televisione. Quindi sicuramente il ragazzo giovane è più attratto, cioè più il cliente è la giovane. Ovviamente essi minorenni accompagnati dai genitori che devono autorizzare compilando un modulo. Ma mi capita spesso di tatuare anche il genitore che accompagna il figlio o papà e mamma che vengono raccontandomi che poi la sera faranno la sorpresa ai figli perché hanno fatto il tatuaggio a loro insaputa. Diversi disegni richiesti che rispecchiano la personalità, le emozioni, i desideri di ogni persona ma che soprattutto variano da uomo a donna. Il disegno più richiesto è quasi sempre il meno impegnativo, quindi ho la stellina, il piccolo simbolo, l'iniziale. Poi chi è già nel mondo del tatuaggio un po' sceglie disegno che rappresentino una storia quindi da realizzare sul momento o il classico, la carpa, il dragone. Per finire anche il disegno americano classico che richiama un po' i marinai. È molto ampio e molto vaga la scelta del disegno. La parte del corpo più tatuata? Per l'uomo sicuramente il braccio, soprattutto se si ha un braccio scolpito muscoloso, il pettorale. Comunque è una zona che spesso rappresenti un punto di forza e anche il tatuaggio in quel caso sicuramente sarà un po' aggressivo come figura. Mentre per la donna si cerca di essere delicati, quindi un fiorellino, una frappallina. Spesso nel basso ventre, nella caviglia, in modo da accentuare pure la sensualità della zona che si va a tatuare. E se qualcuno non ha mai fatto il tatuaggio solo per la paura di sentire, per come si dice in giro il dolore, il tatuatore rassicura che si tratta di un fastidio facilmente sopportabile. Sicuramente dà un po' di fastidio nei primissimi minuti. Poi il corpo si abitua a quella sensazione che molte donne paragonano a quella macchinetta per depilarsi, il silk e pill. Quindi se una donna sopporta il silk e pill tranquillamente può sopportare anche il tatuaggio. L'uomo si informerà con la propria ragazza per sapere che dolore è. Per tradizione i tatuaggi vanno sempre fatti in numero dispari, ma forse tanti non sanno il perché. Purtroppo è una brutta leggenda. Brutta perché è sbagliata e brutta perché riguarda comunque una storia brutta dei marinai. Quindi rappresenta il male, non porta male. Per il marinaio che viaggiava aveva due tatuaggi. Perché il marinario solitamente aveva l'abitudine di tatuarsi quando saliva a bordo, quando arrivava a destinazione e quando tornava in patria. Quindi avendone tre sicuramente era tornato in patria. Se ne aveva due o aveva perso la vita a mare o era stato rapito o per un motivo qualunque era rimasto. Quindi non era tornato a casa. Ma attenzione, prima di fare un tatuaggio occorre sempre accertarsi di essere in buone mani e che vengano osservate tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla legge per evitare infezioni e malattie. C'è da avere un'attenzione particolare sull'attrezzatura che si utilizza. Gli inchiostri devono essere sempre made in Italy o in America, comunque non cinesi. Devono avere delle certificazioni, norma c'è. E gli aghi e i manici che vanno a contatto con la pelle devono essere monouso o sterilizzati a vapore. Il tatuaggio si sa è destinato a durare nel tempo, invecchiando insieme alla pelle di chi lo detiene. Ma per chi dovesse avere dei ripensamenti ed è intenzionato a rimuovere il proprio tatuaggio può eliminarlo ricorrendo a delle tecniche di ultima generazione. La tecnologia ha messo a disposizione un nuovo tipo di laser che rispetto al precedente, che comunque lasciamo una traccia, questo qua si chiama laser Q-Switch. È un tipo di laser che va a selezionare proprio la cellula che ha assorbito il colore. Quindi quando viene lanciato l'impulso che va a vaporizzare le cellule in cui viene diretto, anziché bruciarle tutte, ne brucia una o due. Quindi la percentuale di cellule bruciate è minore, la riuscita dell'intervento è maggiore.